Cosa si cela dietro il rinvio di due settimane delle scadenze per la celebrazione del congresso PD? All'interrogativo cercano risposte le varie anime dem in maniera più o meno fantasiosa, nel senso che non v'è certezza alcuna. Credono e auspicano possa saltare del tutto l'elezione del nuovo segretario i membri dell'area De Caro, area che comunque ha un suo candidato, Bevere. Le correnti renziane, che cercano un accordo su un nome, da Amelia Paris, passando per De Luca, Famiglietti e Iannace, prima dovranno capire qual è il loro peso in assemblea. Congresso o meno, tutti attendono le decisioni di Roma sulla scrematura che il partito nazionale farà su un tesseramento considerato anomalo, di sicuro non più anomalo di altre elezioni simili in passato. Un'indicazione di massima arriva dalla circolare che chiarisce quante firme occorreranno per presentare le liste dei candidati, dall'1 al 3% dell'assemblea certificata 2016, ovvero 8800 tessere tra online e carne d'ossa. Un paradosso, Roma ritiene valido il lavoro svolto dalla Commissione Provinciale per il Congresso, esauterata dal compito a fine luglio. Per le liste serviranno una novantina di firme e 80 candidati fidati, a meno che le anime renziane e filo regionali non vorranno vedere i loro cavalli smarcarsi una volta eletti in assemblea. Sul tesseramento 2017 invece si attendono lumi da Roma e da Ermini. Le due settimane concesse, le due settimane in più, dovrebbero servire, potrebbero servire anche a discutere di contenuti programmatici, ma questa è un'altra storia di fantasia.